... Mancano due giorni al primo marzo e nel palazzo dello sport dell'EU, dove neanche una settimana fa abbiamo assistito a gravissimi incidenti tra giovani di diverse tendenze, si stanno svolgendo le prove del Genfest di Roma. Novo a canto al nuovo, mi scoprirà la grandezza della sua... Yes to you, I want to find you Yes to you, yesterday Yes to you, I want to choose you Yes to you, yesterday Siamo pieni della storia, e vediamo l'uomo crescere, su forti condizioni, più di semplicemente, siamo un'uomo unica, un'uomo unica, un'uomo unica, un'uomo unica. Un saluto a tutti i telespettatori che sono collegati con noi su Rai1 e su tutte le altre tv internazionali da questo momento via satellite. They persecuted Me La mia serva ha sparso la notizia che la pace si può fare. Giovani, non accontentatevi delle briciole, avete una vita sola, puntate in alto, non accontentatevi delle piccole gioie, cercate quelle grandi, cercate la pienezza della gioia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS